Il mio signore Salah ad-Din Che Gerusalemme è arrivata Che Gerusalemme è arrivata Salah ad-Din Vi prego di ritirare la vostra cavalleria E di lasciare questa faccenda a me Io prego voi di ritirarvi in pace a Damasco Reginaldo di Chatillon verrà punito Lo giuro Ritiratevi o moriremo tutti qui L'accordo è stabilito L'accordo è stabilito Io vi invierò i miei medici Salamu alaikum Wa alaikum salam Grazie a tutti